Made in Pesaro è il nuovo brand pensato per valorizzare le imprese del territorio, dare visibilità e far conoscere sempre più aziende della città. E questo è l'obiettivo annunciato in conferenza stampa dall'assessore all'innovazione Franco Ellucci. Finalmente abbiamo un brand per le attività economiche del nostro territorio. Dobbiamo rilanciare le nostre imprese, abbiamo visto la serietà e la responsabilità che hanno avuto anche durante l'emergenza Covid e quindi in qualche modo un'amministrazione deve fare di tutto per far emergere le imprese del nostro territorio. L'amministrazione comunale fa presente il consigliere Perugini e al fianco dell'attività il City Brand vuole essere un modo da incentivare i pesaresi ad acquistare il Made in Pesaro. In questo momento c'è bisogno di tutta la città, tutta la città per valorizzare ancora di più l'energia locale e l'economia locale. Dal caffè fino ai servizi e prodotti che le aziende locali offrono è importante rivolgersi appunto a queste. Non sappiamo e molti forse non sanno che dietro casa o dietro la propria attività hanno un'azienda che può fornire mascherine, un'azienda che può fornire prodotti per la sanificazione o comunque invitare tutti a gustare un caffè o un pasto al ristorante in sicurezza. Oltre alle attività economiche si è parlato anche di solidarietà. L'azienda VitalArt ha donato 60 mobiletti per dispositivi di protezione individuali che il Comune consegnerà alle attività che in queste settimane hanno fatto richiesta di ulteriore suolo pubblico. Questa mattina in Sala Rossa si è svolta la prima donazione simbolica da parte dei vertici dell'azienda.